Quando hai iniziato l'amore per la musica e quando hai pensato hai iniziato di suonare? Credo che sia nato nello stesso momento in cui sono nato io, cioè ho sempre ascoltato musica poi quando ho iniziato ad avere le mani sufficientemente grandi ho avuto una chitarra in mano e quindi ho iniziato a fare musica Quando più o meno hai iniziato a suonare, a fare un tuo set? Io ho iniziato come musicista, come chitarrista nelle band quindi i primi concerti li ho fatti in questo formato e poi la storia è stata che io nella fine degli anni 90 tutte le persone con cui suonavo volevano suonare cose difficili e io non ero in grado e diciamo mi sono trovato un po' fuori dalle band e allora mi sono comprato un sequencerino una cosa che si chiamava una group box della Nord orribile per farmi le mie basi e per suonarci la chitarra da solo e poi ho scoperto che questa group box poteva fare anche altre cose, altri suonini e quindi piano piano ho iniziato a... Sei informato? Hai cercato come fare? No, ho iniziato a costruire sì una specie di modulo mentale per cui allora posso fare dei pezzi da solo Bellissimo E da lì ho iniziato a fare i pezzi da solo Ok, quindi immagino anche amare Loop Station Loop Station no però ho iniziato a comprare invece di comprare la seconda chitarra che lì ho comprato la prima tastiera e invece di comprare un altro pedale ho comprato un altro oggetto più relativo alla musica elettronica e da lì una collezione smisurata di ferraglia E se mi dovessi dire adesso qual è il tuo strumento preferito o che utilizzi di più? Diciamo negli ultimi 10-15 anni ho avuto la passione per la sintesi modulare cioè per costruirmi dei synth fatti con i moduletti e con le cose che volevo io però alla fine la chitarra rimane sempre il mio strumento Rimane? Sì, è quella che sto a suonare meno infatti Ok, chiaro E come invece quindi vivi la tua fase diciamo produttiva ecco cioè ti fai molto influenzare non so da ciò che vivi o da ciò che magari hai già sentito e vorresti risentire diciamo in un'altra linea più gradevole alla tua? Il mio problema è che o la mia qualità è che io ascolto pochissima musica elettronica Ok Quindi non è che ho delle grandi influenze di questo tipo certo magari vado alle serate nel centro di DJ e dico senti che roba voglio rifarlo anche io così però siccome non ho una grande un grande bacio Quindi parti davano all'influenza che potrebbe essere quasi appunto un punto di forza a quel punto Sì cioè non è una influenza più generale cioè mi piacciono certi suoni mi piacciono certe progresso di accordo certe cose e cerco di usarli per fare le mie cose però non c'è una grande influenza cioè ci sono ovviamente degli artisti nel mio campo che ammino tantissimo che dico ah vorrei fare un pezzo come quello però poi farlo vedi che non è il pezzo come quello non è quello non ti viene in quel modo e scopri che il pezzo è il tuo certo con le sue prove se ho conto ok e esce su qualche etichetta oppure musica che comunque crei per te personalmente no esco su tante etichette cioè l'avrò fatto una trentina di release per diverse etichette ho anche io un'etichetta mia personale con Andrea Rucci ok come si chiama? si chiama Cosmix Humor Recordings ok ed è un'etichetta che portiamo avanti da 11 anni lui è un'etichetta direi casalinga dal punto di vista cioè della dinamica con cui sviluppiamo i progetti cioè facciamo soltanto le robe che ci piacciono a noi la musica che ci piace a noi se qualche artista vuole entrare dentro siamo contenti se ci piace ma siamo proprio quindi molto ristretta molto personale sì fondamentalmente pubblichiamo su quell'etichetta io pubblichiamo il mio materiale il suo materiale e il materiale di altri artisti con cui abbiamo rapporti e poi riesco con sono uscito con Bordello a Parigi sono uscito con Slow Motion sono uscito con... ora c'è un... in uscita c'è un EP fatto con un artista che sta a Berlino che si chiama Berni e abbiamo fatto un EP con Upside Work è una... di Barcellona sono facendo risaltanti sì 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 interessante a livello di sogno o comunque obiettivo c'è un traguardo che vorresti aggiungere anche magari tramite l'etichetta qualche obiettivo? la pace dei sensi la pace dei sensi ok gli obiettivi... gli obiettivi non me li pongo perché il mercato musicale fondamentalmente non esiste più il mercato... anche la musica dal vivo e tutto non è una crisi quindi porsi degli obiettivi per me porta a delle grandi depressioni certo io mi pongo degli obiettivi di fare qualcosa di meglio di quello che ho fatto in precedenza quindi un miglioramento sempre del proprio materiale un miglioramento supposo che magari è un'evoluzione sì o una devoluzione diciamo che io ho capito di avere dei blocchi cioè ho dei blocchi di tempo in cui mi piace fare una certa cosa poi a un certo punto mi accorgo di avere esaurito l'alfabeto o le parole che volevo utilizzare le cose e quindi mi tocca trovare un altro suono un'altra cosa spremi diciamo al massimo la spugna ormai è asciutta a proposito di evoluzione c'è stata un'evoluzione in questi anni che ovviamente immagino che i cambiamenti ci sono sempre però proprio a livello di gusto anche di gusto mio? sì ho iniziato ad apprezzare cose che magari prima non apprezzavo ho iniziato a... o alcune cose che prima mi piacevano mi disgustano però c'è tutto... è un passaggio sì è un... alla fine lo vedo come un... un enorme lasso di tempo in cui fai cose, ascolti delle cose che poi è l'esperienza musicale, artistica ognuno poi si porta dietro ok io ti ringrazio è stato molto bello grazie a voi per avermi invitato in questo splendido posto grazie mille quando vuoi passare siamo qua certo ciao ciao